Ok, forse ci vuole anche la batteria, ci vorrebbe un batterista. Potete battere sui scogli forti voi accompagnandosi. Che tonalità è? La solita. Re minore. Palla in re minore, come te pare. L'inventatela, eh? No, la migliore. Facciamo un'altra cosa. La migliore. La migliore. La migliore. La migliore. E tu, e lì c'è casca. Io ti ascolto. Posso fare il lancio sulla gente? Questa l'abbiamo provata un po' troppo. Non l'abbiamo provata affatto. Perfetto. Ok. Ci siamo ragazzi. Quando, poi dico, one, two, three. Abbiamo ancora un microfono se si può aprire. Fantastico. Voglio anche Pino. Pacevo a Pino. Pino insegno pure ragazzi. E' la mia canzone. E' la tua. Calimba deluna. L'ho composto a quanti anni fa? L'ho composto a trentine anni fa. Vai, Tony. Se mi sentono cantare a me, non sbarca più nessuno che tu anche. Mi dice ma stanno peggio. Andiamo se ne... Sì, anche questo. Tutto. Eh, certo. Poi quando faccio? One, two, three, four. C'è il passaggio. One, two, three. Va, va, va. Ok, canto. Alza i nipi da testa sui scogli. Ah, sì? Dobbiamo fare un rumore forte. Svello. Eccolo. Ecco ancora. Ci sono dei pezzi che avanzano. So io dove metterlo. Ma gli hai chiesto dei pezzi. Va beh, vai. Eccola. Guarda se il cavio mi ha scossa. Resta qui, i capelli in triste. Ragazzi, sembra che c'è anche Rosa Martirano. E' anche appassionante. E' un microfono che lo merita. E' tutti quelli che hanno visto che passavano per caso questi giorni. E' pure Marco Masini. E' andato già. E' qua. Marco Masini. E' qui. Marco. Ma lo ricordate? E' qui. E' qui. E' qui. E' qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.